Buonasera, buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la rubrica Il Fatto. Questa sera parleremo di un libro, ma anche di tanti temi di attualità, peraltro legati anche a questo libro. L'ospite che si trova qui con me in studio è un politico, uno dei fondatori di Unione Popolare, portavoce come ama definirsi lui, è stato per due volte sindaco di Napoli, ex magistrato, insomma probabilmente avete già capito di chi si tratta, ve lo presento subito. Benvenuto, buonasera a Luigi De Magistris, buonasera, grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Allora io direi De Magistris di iniziare proprio da questa presentazione del suo libro, lo sta presentando immagino in tutta Italia, ora lo ha presentato in Abruzzo, un titolo già che spiega parecchio, fuori dal sistema. Allora io le chiedo, ma lei ha combattuto come ex magistrato il sistema e credo voglia combatterlo anche adesso come uomo politico delle istituzioni, come si fa a combattere il sistema e di quale sistema parliamo? Io ho cercato di fare il mio lavoro ed è il sistema che mi è venuto addosso come uno tsunami. Da magistrato ho giurato sulla Costituzione Repubblicana, da sindaco due volte. È difficile stare nelle istituzioni perseguendo bene comune e interesse pubblico senza avere contro un sistema. Che cos'è il sistema? Sono donne e uomini, più uomini che donne, che ricoprono incarichi istituzionali anche di primo piano e che invece di perseguire interesse pubblico e bene comune costruiscono una rete finalizzata a interessi privatistici, affaristici, lobbistici e non di rado anche di natura criminale, andando anche a consolidare nel tempo la borghesia mafiosa che è quel consolidamento della penetrazione delle mafie di ultima generazione nella politica e nelle istituzioni. Allora le chiedo, essere fuori, come titola nel suo libro, da questo sistema si combatte forse meglio? O non è meglio conoscerlo sempre di più, questo sistema per combattere? Si paga un prezzo a non avere prezzo, ma non c'è prezzo a non avere prezzo. È fondamentale essere liberi. Se noi vogliamo cambiare questo sistema bisogna essere autonomi, indipendenti, liberi, onesti, competenti e coraggiosi e lavorare tanto. È difficile perché loro poi usano le tecniche dei proiettili istituzionali, della legalità formale, cercano di farti fuori in silenzio, di isolarti, di colpirti, quindi bisogna fare squadra, bisogna essere uniti, però il messaggio che si deve dare è che si può essere nelle istituzioni liberi, però la strada è davvero in salita e questo ci dà la cifra di quanto sia anche malato il nostro paese. In questo suo tour italiano e anche quello abruzzese, credo che abbia incontrato anche tanti giovani, tante scuole, qual è il messaggio più importante da lasciare? A Casoli sono stato in provincia di Chieti, quindi Chieti, Pescara, è importante parlare a tutti, ma ai giovani lo è ancora di più, non perché sono il futuro, sono il presente. Quindi i giovani si devono agitare, dubitare, pensare, reagire, si devono ribellare in modo pacifico, non violento, devono cambiare il mondo, cominciare dai cambiamenti climatici, a cominciare dal tema delle mafie, delle disuguaglianze economiche, dei diritti costituzionali, della guerra e della pace. Quindi ho girato tantissimo, da quando sono entrato in magistratura, 26 anni ad oggi, penso di aver girato centinaia e centinaia di scuole, mi arricchisco sempre e provo a portare la testimonianza di chi con i fatti ha dimostrato di essere fuori dal sistema. E poi c'è stato, dopo l'esperienza in magistratura, credo durata un 15-16 anni, c'è stata l'esperienza politica. Prima è stato eletto, mi corregga se sbaglio, nelle auree europee. Al Parlamento europeo nel 2009, con quasi mezzo milione di voti. E poi soprattutto c'è stata la grande esperienza, doppia esperienza, come sindaco di Napoli. Due mandati, anche il libro sicuramente racconta parecchio di questa sua doppia esperienza, che esperienza è stata? Perché leggiamo che lei ha un po' anche tentato, non so se ci è riuscito completamente, però ha tentato di rivoltare un po' le cose a Napoli, l'acqua pubblica, la questione dei rifiuti. Esperienza straordinaria. Mi sono candidato per amore della mia città perché Napoli aveva i rifiuti al primo piano. Ormai da sette anni Napoli è prima in Italia per crescita turistico-culturale, primo set cinematografico all'aperto, unica città. Ricordiamo il periodo dei mandati? 2011-2021. Ok. La città dell'acqua pubblica, dei giovani, dei beni comuni, senza uno scandalo, governato senza soldi. E poi è stata un'anomalia in Italia perché è stata un'esperienza proprio popolare, una coalizione civico-popolare. Ho avuto tutti i partiti, tranne la sinistra più radicale, tutti i partiti all'opposizione. Quindi è stata una bella esperienza, vera, forte, fuori dal sistema e la dimostrazione che cambiare si può. Ecco, lei è stato due volte eletto a Napoli, però poi quando ha avuto, diciamo si è gettato in altre esperienze, mi riferisco per esempio alla sua candidatura in Calabria come Presidente della Regione, ma anche all'Unione Popolare. Lei è stato fondatore, appunto, uno dei fondatori del partito. Non è andata bene, o meglio, non è andata come lei forse voleva. Perché? Secondo lei se l'è chiesto. Facciamo un distinguo. Nei regionali secondo me è andata molto bene, perché noi senza partiti, con una coalizione civica, senza soldi, no. Come consigliere non mi sono candidato volutamente per fare eleggere i rappresentanti del territorio. Abbiamo eletto consiglieri, perché dico è andata alla fine bene? Perché noi abbiamo preso il 17% e in nessuna elezione regionale italiana, dove c'è il sistema più complicato, c'è mai stata una coalizione civica che sia andata oltre il 7-8%. Alle nazionali non è andata come noi vogliamo, ma perché abbiamo avuto 40 giorni. Noi siamo nati a luglio, abbiamo dovuto raccogliere le firme in piena estate, fare candidature, programma, farci conoscere, scomparsi dai sondaggi, dai telegiornali. Si aspettava però sicuramente qualcosa di più, è un po' amareggiato. Ma sempre uno si aspetta di più, ma sono molto contento della militanza, di esserci stati, ma soprattutto adesso di continuare. Cioè l'Unione Popolare era nata, poi c'è stato lo sceglimento anticipato, perciò è tutto di corsa, per radicarci sui territori, per farci conoscere, per unire movimenti, associazioni, reti civiche, amministratori che vogliono riconoscersi nel pacifismo, nell'ambientalismo, nei valori costituzionali. Perciò dobbiamo avere del tempo per poterlo fare, se vuoi cambiare, se poi ti vuoi accodare, se avessi voluto un posto, una poltrona non c'erano problemi. Ma noi vogliamo invece dimostrare che c'è un'alternativa. All'interno di Unione Popolare, lo ricordiamo, ci sono partiti, ma anche tante associazioni. Assolutamente, ci tengo molto a questo. I soci fondatori, chiamoli così, oltre al mio movimento, Democrazia Autonomia, c'è Rifondazione Comunista, c'è Potere al Popolo e Manifesta, ma soprattutto, e io a questo tengo molto, si stanno avvicinando tante associazioni, tanti militanti, tanti cittadini, quindi noi andremo avanti, sono fiducioso, ci vuole del tempo, come in tutte le cose. Qualche giorno fa a Roma c'è stata l'Assemblea, la prima Assemblea di Unione Popolare, e quindi è una cosa importante perché porterà verso lo Statuto e soprattutto verso il primo congresso nel 2023, credo a marzo. Esattamente, noi dobbiamo adesso fare un percorso partecipato, democratico, abbiamo creato un coordinamento provvisorio costituente di una sessantina di membri, una struttura di comunicazione, tenga presente che noi non abbiamo finanziamenti pubblici, non pigliamo un euro opaco, cioè tutto autofinanziamento, militanza, spontaneismo, quindi insomma alla fine siamo soddisfatti anche del risultato che finora abbiamo conseguito in termini di partecipazione nel territorio. Il nostro regista Andrea Di Fabio ci sta mettendo in onda delle immagini che portano magari a parlare dei temi economici che ancora non abbiamo affrontato, e anche poi parleremo in parte del governo, del nuovo governo Meloni. I temi economici vi stanno a cuore, sicuramente, perché sono i temi quotidiani. Ma stanno talmente a cuore che il nostro programma, invito tutti a andarlo a leggere, ci hanno chiamato quasi per offenderci il programma Robin Hood, per noi un complimento. Perché è un programma troppo idealista. No, noi dobbiamo in questo momento per dare un segnale a chi ci vede e ci ascolta, togliere un pochino a chi ha tantissimo e riequilibrare un po' il nostro paese, sia in termini territoriali, sia in termini nonostri. Ma guardi, ci sono multinazionali, gruppi potenti che stanno guadagnando sulla guerra, per esempio, sia con gli extra profitti del gas e dell'energia, sia con le armi. Ecco, andiamo a tassare in maniera forte, diamole alle imprese che sono veramente imprese che fanno l'attività economica nel nostro paese, creano lavoro, diamole alle famiglie, aumentiamo i salari, il salario minimo, adeguiamo le pensioni all'inflazione, non togliamo il re di cittadinanza perché va rivisto, ma toglierlo adesso in questo momento è pericoloso. Quindi però va rivisto e è d'accordo con quello che dice in fondo anche il governo, anche se poi magari ci sono dei disturbi. Il segnale del governo è toglierlo, in maniera netta al 2024, è un messaggio sbagliato. Poi io pure credo che nessun governo potrà mai togliere un sussidio a chi è povero. Ma parlate soprattutto di salario minimo? Sì, questo è importante, perché questi stanno creando la guerra tra proveri, tra percettori re di cittadinanza, persone che lavorano con un salario da fame e pensionati con una pensione da fame. Noi dobbiamo mettere il salario minimo, almeno 10 euro all'ora, adeguare le pensioni all'inflazione e mantenere, rivedendolo, il re di cittadinanza. Giorgia Meloni, eccola qui, la prima donna al governo. Ma sa, netta così, chi è che non può essere contento che ci sia una do per chi crede nella parità di genere? Però attenzione, perché non è che una donna allora necessariamente è per la parità di genere. Questo governo nei primi atti si sta mostrando intriso di una forte carica autoritaria, non mi piace, dal tema dei migranti, alle libertà col decreto cosiddetto RAVE, la manovra economica, l'autonomia differenziata. Invece sui temi economie e dell'economia della finanza, dove avrebbe potuto dare anche un segnale di maggiore vicinanza ai cedi popolari, una volta la destra cosiddetta sociale aveva almeno apparentemente questa sensibilità, mi sembra in continuità con il draghismo. A proposito di draghismo, la vostra posizione sulla guerra è chiara, condanna dell'invasione russa in territorio ucraino, però sia con Draghi che anche con questo governo Meloni, no all'invio di armi all'Ucraina. Ma come si risolve allora il problema? Noi siamo stati netti dal primo momento, perché sul tema della pace non può essere a corretti alternati. Noi abbiamo condannato, l'era fatto bene a ricordare, l'invasione russa, ma non si risolve questa guerra e la si poteva evitare senza una soluzione diplomatica. Ci vuole una soluzione diplomatica. Le armi aumentano i morti, prolungano il conflitto e ci portano sul rischio concreto della terza guerra mondiale con armi nucleari. Per un anno non si è proprio cercata la via diplomatica, né da parte dell'Unione Europea. Forse però bisognava anticiparla questa via diplomatica. Bisognava lavorare prima, l'ho detto prima. Ma si sapeva perfettamente... Una volta che il conflitto è deflagrato, poi... Si sapeva che c'era la tensione, gli accordi di Minsk non attuati... E perché secondo lei i diplomatici non si sono messi subito... Ma ho un po' il sospetto che questa guerra, infine, non è che non lavoressero in tanti. Cioè tra Russia, Stati Uniti, Nato. Ormai è diventata una guerra tra Russia, Nato e Stati Uniti. Con l'Unione Europea che pare che guarda, anzi agita ancora di più uno scenario di guerra, le persone che muoiono aumentano. Civili, i poveri soldati russi e ucraini, giovanissimi. Abbiamo una crisi economica, sociale devastata. Rischiamo il conflitto nucleare o un disastro nucleare a Zaporizia. Io credo che ci vuole qualcuno che prima o poi sarà il Papa, sarà qualche leader che ora non vedo, saranno i popoli, mi auguro, a manifestare ancora di più per spingere verso la pace, verso la diplomazia. Ecco, a proposito di pace, sarà secondo lei invece un conflitto lungo? Ma temo di sì, perché non vedo veramente una volontà politica. Nemmeno Zelensky parla in un linguaggio di pace. Ormai è tutto linguaggio di guerra, con un rischio, ripeto, enorme. Allora, le guerre, lo dimostra la storia, o terminano perché c'è uno che vince e l'altro che perde. E qua significa guerra nucleare, perché abbiamo la Russia da una parte, gli Stati Uniti dall'altro, oppure con la diplomazia. E quindi noi dobbiamo spingere come popoli, come cittadini, come uomini politici, uomini delle istituzioni, dobbiamo spingere perché si aumenti il carico della via diplomatica. Allora, il tempo è letteralmente volato. Abbiamo ancora un minuto, massimo due. Le volevo chiedere questo. Il suo rapporto con l'Abruzzo? Abruzzo è Napoli, e Luigi De Magistris è Napoli, è molto forte. Noi abbiamo legami addirittura storici, intensi, e qua apprezzo soprattutto la genuinità, l'umanità e il cuore grande che sono molto vicini, non solo a quelli del mio pensiero, ma anche del popolo da cui provengo, da Napoli. Torniamo sicuramente al suo libro, lo facciamo rivedere, faccio rivedere la copertina, edito da PM, lo ricordiamo. Il PM Mondatore. Fuori dal sistema, è uno degli ultimi libri, perché ne ha scritti altri, Luigi De Magistris. Potrebbe essere, non ha bisogno della mia pubblicità, anche perché non potrei farla dal punto di vista deontologico, però potrebbe essere una strana natalizia, diciamo così. Grazie, questo è un libro, non perché l'ho scritto, a cui tengo molto tra i tanti che ho scritto, perché è la storia di un uomo semplice, che però ha dedicato la vita sinora per la giustizia e per la Costituzione. Perfetto, grazie di cuore a Luigi De Magistris, naturalmente in bocca al lupo per tutta la sua attività. Noi ci fermiamo qui, grazie ad Andrea Di Fabio per l'aiuto in regia, e ci fermiamo qui, come vi dicevo, appuntamento alle prossime edizioni del Fatto. A risentirci.